Particolarmente esemplificativa della poesia crepuscolare è la poesia intitolata A Cesena di Marino Moretti. È una poesia estremamente prosaica, anzi la prosaicità viene quasi sottolineata, ostentata. Il contesto è semplicissimo, è un contesto familiare, un contesto che potremmo definire quotidiano, non nel senso che ciò che avviene si ripete ogni giorno, ma che appartiene alla nostra quotidianità. La sorella di Marino Moretti si è sposata da poco e lui, un mercoledì, va a trovarla, lei si è trasferita a Cesena, ecco che lui va a trovarla a Cesena. Quindi siamo in un contesto assolutamente prosaico, assolutamente antieroico e assolutamente se vogliamo anche antilirico, no? Vi ricordo che abbiamo parlato anche di antipoesia. In questo senso antipoesia può andar bene questo termine, ma nel senso di antilirico, cioè non ci sono diciamo espressioni, toni, modalità liriche, ovvero quelle che caratterizzano, non so, la poesia ad esempio degli Lili Leopardiani, tanto per intenderci, no? Ora, è una poesia quindi estremamente prosaica, in cui si racconta una situazione di quotidianità borghese, una quotidiana, una quotidianità borghese che è assolutamente in colore, priva delle tonalità, diciamo, estetizzanti di dannunzio, no? Degli eroi dei romanzi, delle poesie dannunziali. È da notare che anche l'uso che viene fatto della metrica e della versificazione, perché nonostante queste siano terzine di endecasillabi, quindi, insomma, la terzina e l'endecasillabo sono i versi della Divina Commedia, l'endecasillabo è il verso più usato della nostra tradizione lirica, quindi siamo, dal punto di vista delle scelte metriche, in una poesia che è, come dire, in linea con la tradizione, ma l'uso che se ne fa è un uso, se vogliamo, nuovo, è un uso assolutamente prosaico, cioè nel momento in cui noi leggiamo la poesia, se l'ascoltiamo senza vederla disposta, diciamo così, no? Metricamente, forse non la percepiamo neanche come tale. Piove, è mercoledì, sono a Cesena, ospite della mia sorella sposa, sposa da sei, da sette mesi appena. Ecco, vedete che il tono della poesia, il suono della poesia, la metrica, l'andamento della poesia è assolutamente prosaico. Da sottolineare, tra l'altro, in particolare, la suddivisione del primo verso, cioè il primo verso viene addirittura suddiviso in tre proposizioni, due proposizioni più l'inizio della terza e anche questa punteggiatura, questo spezzare, vedete, no? Ecco, piove, punto, è mercoledì, punto, sono a Cesena. Anche questo spezzare, no? Il verso lo rende, lo rende, lo rende molto simile, no? All'andamento, all'andamento prosaico, un andamento prosaico che non ha nulla a che fare con una prosa d'arte, con una prosa, diciamo, poetica, una prosa lirica, una prosa quasi diaristica, no? Una prosa estremamente essenziale e molto semplice. Bene, anche il lessico, no? Ospite, sorella sposa, sposa da sei, da sette mesi appena. Vedete che anche il contesto narrativo, le espressioni usate, sono assolutamente prosaiche e semplicissime, no? E appartengono al linguaggio della quotidianità. Ma anche, dicevamo, una poesia anche in colore, sì, è una poesia anche in colore, perché anche i colori che vengono scelti per raccontare questa giornata sono quelli della pioggia del grigiore, no? Di una giornata appunto senza colori. Batte la pioggia il grigio borgo. Lava la faccia della casa senza posa. Schiuma a pie delle gronde come bava. Vedete che la pioggia, il borgo che è grigio, questa pioggia che cade senza posa, no? Ci dà, insomma, questa sensazione di cupo, no? Di triste, di malinconico. La malinconia è uno dei caratteri della poesia crepuscolare. Nella terza strofa ritroviamo quello spezzare, quelle cesure, no? Che sono, che abbiamo visto anche nella prima strofa. Tu mi sorridi, io sono triste, e forse triste è per te la pioggia cittadina. Il nuovo amore che non ti soccorse, il sogno che non ti avvizzi, sorella che guardi me con occhio che sostina a dirmi bella la tua vita, bella, bella. Anche qui vedete che gli aggettivi, i vocaboli usati, sono quelli della malinconia, come prima abbiamo visto il grigio borgo, la pioggia. Adesso vedete triste, no? La pioggia di nuovo, no? E forse triste è per te la pioggia cittadina. Il nuovo amore che non ti soccorsa. Che cosa vuol dire? Beh, il nuovo amore che non ti ha pagato. Evidentemente anche qua siamo in un contesto, un contesto è quello del matrimonio, no? Della sorella che si è appena sposata, ma anche questo matrimonio, questa vita, questa nuova vita della sorella è una vita in colore, priva di emozioni, priva di sentimenti autentici, privi, priva, no? Di, di, dell'appagamento che invece potrebbe essere, no? Esserci in una vita coniugale, no? Soprattutto all'inizio, no? Del suo, del suo cammino. Il sogno che non ti avvizzi, quindi insomma le, 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 le speranze, le illusioni, i sogni, no? Di gioventù che in qualche modo non hanno, sono per certi aspetti ancora, ancora, ancora vivi, però sono stati frustrati dalla, dalla realtà. Sorella che guardi me con occhio che sostina a dirmi bella la tua vita. Ecco, questo, diciamo, sociale, familiare, borghese, no? Cioè la sorella che insiste a volersi dichiarare felice di fronte al fratello, no? Che si ostina a dirmi bella la tua vita, no? Bella, bella. Ecco, però in realtà la vita, evidentemente il fratello ha capito che non è così, non è così. Bene, possiamo proseguire ancora un po' questa, questa lettura. Dunque, o bambina, o sorellina, o nuora, o sposa, io vedo tuo marito, sento oggi a chi dici mamma, a una signora. Ecco, vedete che l'andamento è molto semplice, no? Molto semplice, ma molto prosaico, no? Intanzitutto, vabbè, questo è il lessico che, diciamo, sono i vari aspetti, no? Di questa, di questa donna, che è sia bambina, perché chiaramente lui se la ricorda ancora, no? Come una sorellina, anche ancora da quando era piccola, no? È anche nuora, è anche sposa e ha un marito, no? Sento oggi a chi dici mamma? Beh, certo, alla suocera, no? Vive con i suoceri e dice mamma a una signora, cioè per il poeta questa è una estranea, è una signora, per la sorella chiaramente, no? È una nuova mamma. So che quell'uomo è il suocero da bene che dopo l'autopasto è sonnolente, il babbo che ti vuole un po' di bene. Ecco, come vedete, anche qui abbiamo una poesia, l'espressione, il contesto narrativo, no? È estremamente in colore, estremamente, diciamo così, prosaico, no? Ecco, la descrizione di questo suocero, che è un suocero da bene, cioè insomma una persona che si presenta socialmente bene e che dopo il pasto è a sonnolenza, ha, come dire, insomma, gli si chiudono gli occhi, no? Ecco, quindi è sonnolente. È una notazione anche questa, come dire, psicologica o comunque realistica, che però in qualche modo è significativa, no? Per descrivere questo contesto borghese è molto, 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 molto semplice, no? Molto prosaico. Mamma tu chiami e le sorridi e vuoi che io sia gentile, vuoi che io le sorrida, che le parli dei miei viaggi, poi, poi quando siamo soli o come piove, ecco che vedete, risottolinea, no? Sottolinea ulteriormente, no? La pioggia che scandisce la giornata. Mi dici, Rauca, di non so che sfida corsa tra voi, cioè col marito, e dici dove, quando, come, perché, ripeti ancora quando, come, perché, chiedi consiglio con un sorriso, un non più tuo di nuora. Ecco, parla di questioni familiari, di beghe familiari, di scontri col marito, di litigi. Ora, come vedete, sono tutti quanti temi molto, molto prosaici, no? Che non appartengono certamente al mondo degli eroi, degli grandi esteti danunziani, ok? Ma neanche a quella lirica simbolica che abbiamo visto nel Pascoli, no? Quindi simbolico non c'è niente, è un documento quasi, no? Una sorta di diario, annotazioni che non hanno quasi nulla a che fare con la poesia. Parli di una cognata quasi avara che viene spesso per casa col figlio e non sai se temerla o averla cara. Parli del nonno che è quasi al tramonto, il nonno ricco del tuo dino e dici, cioè del marito, no? Il nonno del marito. Vedrai, vedrai, se lo terrò da conto. Parli della città, delle signore che già conosci, di giorni felici, di libertà, d'amor proprio, d'amore. Piove e mercoledì sono a Cesena. Sono a Cesena e mia sorella è qui tutta ad un uomo che io conosco appena, tra nuova gente, nuove cure, nuove tristezze, e a me parla così, senza dolcezza, mentre piove e spiove. La mamma nostra t'avrà detto che... e poi si vede, ora si vede, come sì, sono incinta. Troppo presto, ahimè. Sai che non voglio balia, che ho speranza di allattarlo da me? Cerchiamo un nome, ho fortuna, è una buona gravidanza. Vedete, quello di cui si parla sono aspetti che riguardano la gravidanza, che riguardano la vita privata, la vita personale, ma non c'è nessuna trasposizione lirica, simbolica, e quindi è un contesto assolutamente borghese, prosaico e, se vogliamo, anche abbastanza in colore. Ancora parli, ancora parli e guardi le cose intorno. Piove, s'avvicina l'ombra grigiastra, suona l'ora e tardi, e l'anno scorso eri così bambina.